Grazie veramente di esservi interessati al mio speciale percorso d'allenamento con elastici. In questa pagina troverai tutta la presentazione di questo percorso e l'accesso al primo mese di workout. È un qualcosa che non ho mai fatto prima, ma in questi anni in tanti di voi mi avete dimostrato l'interesse per allenarvi con gli elastici. Gli elastici sono uno strumento comodissimo per allenarsi, vi potete allenare in casa, al parco, in ufficio, ve lo potete portare se nelle trasferte di lavoro, in vacanza e quindi perché no un percorso in video per guidarvi, essere il vostro coach e andare ad allenarci insieme grazie a questo strumento d'allenamento. Ecco gli elastici sono perfetti, permettono comunque un grande lavoro muscolare, un lavoro muscolare che può diventare anche molto impegnativo perché possiamo trovare diverse tipologie di elastici che prevedono anche diverse intensità di lavoro. Quindi può andare a soddisfare veramente l'esigenza di tutti, da quelli meno forti a quelli più preparati fisicamente. Ecco, adesso vi racconto un po' come ho creato questo percorso, quello che troverete all'interno nel mese di prova. Nel mese di prova accederete comunque alla mia speciale piattaforma di allenamento in video on demand con cui potrete avere tutti i contenuti comodamente nel vostro account. Ecco, quello che troverete sarà il primo mese di lavoro con questo mio percorso con elastici. Ecco, il mese è costituito da 5 workout settimanali. Io ho inserito 5 workout settimanali, considerate che ho tenuto le sedute un po' più corte, le sedute durano circa 20-25 minuti. In questo modo possiamo andare a soddisfare un po' le tempistiche della maggior parte degli utenti. Poi ci mettiamo 5-10 minuti di riscaldamento, 5-10 minuti di defaticamento, avete creato il vostro workout perfetto. Di questi 5 workout li ho organizzati in modo da soddisfare le esigenze sia di uomini che di donne. Per quale motivo? Perché abbiamo 3 workout che possiamo considerare obbligatori, in cui andiamo a lavorare in modo equilibrato con tutto il corpo. Poi c'è un quarto workout con il focus sulle braccia e un quinto workout con il focus maggiormente sui gluti e sulle gambe. Quindi, se sei una persona che ha 5 giorni alla settimana per allenarsi, puoi tranquillamente sfruttare le 5 sedute. Se magari sei un uomo, potresti magari sfruttare le prime 3 con il workout con le braccia. Se sei una donna, ovviamente i primi 3 workout e poi con il workout con il focus su gambe e gluti. In questo modo riusciamo ad andare a personalizzare un po' il lavoro per le varie esigenze che potrebbero essere richieste da chi si allena. La finalità di questi allenamenti è comunque quella di migliorare la tua composizione corporea, quindi cercare di ridurre la percentuale di grasso e migliorare la componente atletica muscolare. Quindi, proprio per darti le migliori forme e il miglior fisico possibile. E ti assicuro che il lavoro organizzato è perfetto. Sarai guidato da me, fai partire il video, ci alleniamo insieme. Ormai questa è una strategia che tantissimi italiani, tantissimi miei allievi ormai adorano, proprio perché ci sono io lì con voi, vi guido, vi faccio vedere gli esercizi, vi tengo i tempi di lavoro, vi tengo i tempi di recupero, e quindi non ci sono distrazioni e la seduta va via liscia come l'olio. È veramente un'occasione unica, oggi è la possibilità di accedere al primo mese di prova gratuitamente, paghi esclusivamente i costi di attivazione di questo corso. Ma questo ti permette che cosa? Uno, ti permette che anche al termine di questo mese i contenuti non scadono, quindi rimarranno sempre a te. Quindi hai capito bene, non dovrai rinnovare, hai terminato il mese, non ce l'hai fatta perché magari hai perso una settimana, potrai utilizzare e riutilizzare questi contenuti quante volte vorrai. Secondo motivo è perché voglio all'interno di questo percorso persone motivate, quindi questa piccola spesa di pochi euro mi permette di scremare tutti i fannulloni. Quindi se volevi solo scaricarti il corso giusto per vedere com'era, non mi interessa. Voglio persone che abbiano voglia e l'interesse di mettere in pratica questi miei contenuti. Ci impiego tempo a registrare questi contenuti, sono contenuti di qualità e quindi voglio all'interno persone che vogliono provarli e metterli seriamente in pratica. Quindi questo è quello che troverai. Ma per rendere ancora di più l'offerta incredibile, all'interno non troverai solo il primo meso ciclo del percorso fisico da spiaggia, ma ho il piacere di inserirti, se deciderai di acquistare questa prova, anche tre bonus incredibili. Ti metto anche un mese di prova del mio sistema 4 workout, l'allenamento con due manubri. Sono mini allenamenti di 4 minuti che puoi andare a comporre per fare allenamenti di 4, 8, 12, 16, 20 minuti a tuo piacere. Quindi è perfetto anche da abbinare al lavoro con gli elastici e tu lo troverai all'interno di questo mio mese di prova degli allenamenti con gli elastici. Poi ti ho inserito un manuale dedicato allo stretching con 9 schede dedicate allo stretching, perché ritengo che lo stretching sia un elemento fondamentale del nostro corpo. Non dobbiamo solo pensare a migliorare, a potenziarci muscolarmente, ma è importante, ancora più quando gli anni avanzano, lavorare sulla mobilità e sullo stretching per avere una muscolatura elastica e flessibile. Quindi troverai anche questo contenuto all'interno di questa prova del mesociclo con gli elastici. Ma poi non basta, ti ho inserito anche una sezione con workout extra, una carrellata di miei allenamenti che vanno a soddisfare diverse tipologie di esigenze. Quindi potrai andarli a mettere in pratica come vorrai per arricchire ulteriormente i tuoi workout. Questi tre contenuti hanno grande valore, sono tre bonus di grandissimo valore, ma oggi li troverai inclusi gratuitamente in questa piccola spesa che ti chiedo di fare per accedere al primo mese del mio nuovo percorso con elastici. Quindi adesso sai tutto quello che troverai all'interno, non ti resta che entrare e cliccare sul pulsante che trovi qua sotto e ci si vede nel primo workout con elastici.